Presso il mercato coperto di Campagna Amica in via Mincio ad Arezzo c'è stata una conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa stasera Cucino.io educazione al cibo e alle abilità nella cucina con i prodotti delle aziende di Campagna Amica. Noi lavoriamo insieme ad Arezzo Autismo già ormai da un paio d'anni, la prima collaborazione è cominciata proprio con il lockdown del covid dove c'erano dei grossi problemi per fare i campi estivi dei ragazzi che abbiamo poi gestito attraverso un agriturismo qui vicino ad Arezzo. Poi abbiamo continuato lo scorso anno anche lì con delle attività legate alla capacità di cucinare, di servire da parte di queste persone a fare la spesa al mercato del giotto e adesso avendo aperto il mercato coperto qua con queste strutture che ci danno la possibilità di anche fare attività didattiche eccetera grazie anche alla collaborazione con Chef Shadi faremo questa ulteriore attività che è organizzata in maniera un po' più strutturata e che ci dà veramente soddisfazione anche per essere d'aiuto ad un'associazione importante della provincia di Arezzo. Più che altro noi abbiamo voluto porre l'attenzione sulle dimensioni del fenomeno delle persone autistiche certo progetti come questi ci danno una grande gioia e una grande spinta principalmente a noi familiari, a noi genitori ci sentiamo meno soli, vediamo che un futuro diverso è possibile in questo caso grazie alla collaborazione della Coldiretti, di alcune aziende private, di Innerwill e più che altro di un grande chef come Shadi abbiamo pensato di lavorare su uno dei grandi temi che appassionano i nostri ragazzi ovvero l'alimentazione, il cibo è un grande potenziale ma anche un grande problema i nostri ragazzi hanno bisogno di un percorso diverso per approcciarsi ai temi, ai problemi quindi questo ci dà possibilità di renderli più abili, minimamente indipendenti tant'è che il percorso con Coldiretti è anche che questi ragazzi che seguiranno questo percorso che è andato avanti fino a giugno avranno comunque un certificato HCCP grazie a tutti grazie a tutti